Si è riaccesa in questi giorni la discussione riguardante le antenne di telefonia mobile nel Comune di Fano. In particolare la discussione si è riaccesa in seguito alla nuova realizzazione di un'antenna 5G a Bellocchi. Ora, sono stata per giorni in silenzio ad ascoltare, come giusto fare. Poi ieri sera, in occasione della riunione che si è tenuta proprio nel quartiere organizzata dal Comune di Fano, dall'attuale amministrazione, ho partecipato. Dopo aver ascoltato sia la nuova amministrazione che i residenti, posso dire che il tema è assolutamente complesso e che sono state dette dalla recente amministrazione gravi inesattezze. Per fortuna in occasione della riunione è stato un po' riassestato il tiro. Mi preme dire che il tema è molto sensibile e ne capiamo l'importanza, tanto è vero che come amministrazione nel precedente mandato abbiamo fatto un grandissimo lavoro a tal proposito. Cosa succede? C'è una normativa nazionale che si è evoluta tantissimo. In soli quattro anni, otto variazioni normative. Nell'ultimo anno, ben quattro nuove leggi. L'andazzo è sempre quello per il quale vengono tolti poteri ai comuni a favore delle compagnie telefoniche. Per fare un esempio, posso dire che noi ci ritroviamo a combattere una battaglia con un cucchiaio da minestra e dall'altra parte abbiamo un carro armato. Ecco la situazione, la situazione che avevamo e che hanno ereditato quelli della nuova amministrazione. Anzi, sarebbe più corretto dire che adesso quelli della nuova amministrazione hanno un elemento in più. Questo elemento è dato dal nuovo piano che ci siamo adoperati con tempestività e con grande rigore ad adottare. Non è un caso che sia aumentato esponenzialmente il numero delle pratiche depositate proprio a ridosso dell'adozione del nuovo piano. Avremmo potuto adottare il nuovo piano con 15 giorni di anticipo ma in Consiglio Comunale molti consiglieri hanno votato contro e si sono astenuti tra cui anche coloro che adesso sono in amministrazione. Questo ha dato spazio a far passare alcune pratiche. Il nuovo piano permette di tamponare un po' la situazione. Qual è però il concetto? Le compagnie telefoniche hanno il diritto di installare nuove antenne. Il Comune può solo regolamentare parzialmente la cosa. L'antenna di Bellocchi si trova in un sito già presente nel precedente piano dal 2006 rimasto invariato anche tra il 2012 e il 2017 quando all'assessorato all'ambiente c'era l'attuale sindaco Sir Filippi. Non gliene faccio una colpa perché magari non si poteva immaginare che sarebbe stata realizzata però questo è lo stato dei fatti. Ora se si vogliono cambiare le cose, se si vuole controbattere, se si vuole avere più armi nei confronti delle compagnie telefoniche c'è uno strumento che è proprio quello che abbiamo adottato noi. Da qui bisogna partire tempestivamente nel continuare il lavoro con i nostri consulenti e iniziare un giro nei quartieri. Molti hanno chiesto perché non è stato fatto prima. Non era possibile. Noi dovevamo assolutamente agire velocemente e sistemare la prima emergenza. Altrimenti non sarebbe stato il problema di 4 antenne ma sarebbe stato il problema di 20 antenne, 30 antenne. Chi volesse visionarlo mi può scrivere sui social e gli manderò una copia senza alcun problema. Nel nostro piano per valutare la minima esposizione abbiamo messo come vincolo, non la bellezza circostante, abbiamo detto meglio un'antenna più brutta ma che garantisca un segnale meno impattante, calcolando di non superare i 6 watt metro sul picco massimo. Quindi abbiamo giocato, lavorato a favore della tutela della salute. Di più di coscienza non potevamo fare un contratto triennale e non di un solo anno proprio per garantire a chi arrivasse dopo immediatamente di fare un lavoro di consultazione con i quartieri cosa che per noi è stato impossibile.